allora ciao buongiorno e sono alessandra faccio gioielli il mio nome il mio brand si chiama mio brand o comunque la mia ditta artigianale si chiama posa gioielli e lavori metalli prevalentemente l'ottone e appunto faccio gioielli con questo materiale bellissimo le ragazze di terre rare mi hanno chiesto di fare un video per riuscire a crema a creare una piccola un piccolo contatto un contatto per sentirci tra virgolette più uniti per sentirci e per dire che ci siamo ancora che siamo qua che nonostante questa pandemia noi stiamo continuando a fare cose non ci siamo fermati o meglio ci siamo un po fermati abbiamo rallentato e un po alla volta stiamo cercando di rinascere di inventarci per l'ennesima volta e io collaboro con le ragazze di terre rare dal 2015 che poi è stato l'anno esattamente nel quale ho aperto la mia ditta individuale e nel tempo si è creato comunque un rapporto che va anche al di là del semplice rapporto di lavoro anche perché io sono sempre più convinta del fatto che chi si somiglia poi si prende in qualche modo quindi all'idale del fatto che alle ragazze piacciono molto i gioielli che faccio e c'è anche una sorta di sintonia di similitudine tra i nostri modi di pensare tra i nostri modi di essere nel modo nel quale vediamo un po le cose che ci stanno attorno tra le sensibilità che possiamo avere nei confronti del mondo delle questioni magari più più generali eccetera eccetera e quindi quando mi hanno chiesto di fare un video mi è sembrato una cosa bellissima anche perché era un po che non ci si sentiva ed è stato questo un primo un primo contatto dopo questo periodo molto lungo nel quale non ci si era più sentito quindi adesso vi voglio raccontare un po chi sono io vi voglio raccontare del luogo che vedete alle mie spalle e vi voglio raccontare di come ho vissuto questa quarantena mi è stato chiesto di fare questo e quindi sono ben felice di farlo la mia quarantena ha avuto diverse fasi credo che tuttora sia in fase evolutiva perché poi è molto alta allenante il mio stato d'animo e il mio umore i primi dieci giorni li ho passati a piangere a piangere a costruire casette per gli uccelli ad appendere tanzaku negli alberi del giardino e a osservare quindi sono stata ferma sono stata ferma a vedere che cosa stava succedendo a cercare di capire cosa stava succedendo non non credo di averlo ancora capito fino adesso comunque la mia reazione iniziale è stata questa di immobilità l'unica cosa che mi dava sollievo nel primo periodo della quarantena era costruire casette per gli uccelli mi è sembrato una cosa talmente bella da fare o comunque per me insomma mi faceva stare bene e quindi insomma ho passato le giornate così ho passato ho costruito quattro cinque casette per gli uccelli guardavo gli uccellini che si avvicinavano agli alberi anche perché l'inizio della quarantena coinciso più o meno con con l'arrivo della primavera e quindi insomma la natura si stava risvegliando io per fortuna vivo in campagna e quindi ho potuto osservare quei ritmi lenti che ha la natura quando si risveglia da lungo l'etaro invernale quindi guardavo gli uccellini guardavo gli accoppiamenti degli uccellini guardavo le loro danze guardavo che volavano guardavo fuori dalla finestra e piangeva anche perché poi in realtà era molto freddo e quindi insomma quindi stavo fuori facevo casette per gli uccelli quando tornavo in casa la sera guardavo fuori gli uccellini e piangevo questa è stata la mia reazione ho pianto veramente tanto ma così in maniera incontrollata e dopodiché ho cominciato a pensare a una strategia per per ripartire non per ripartire economicamente perché perché quella è una cosa che credo che dovremmo affrontare in un secondo momento ma per ripartire da pasa gioielli per non lasciare al macero tutto quello che avevo costruito fino adesso e per capire come affrontare questa cosa emotivamente il mio lavoro ancora una volta mi ha salvato mi ha salvato tanto e più del lavoro mi ha salvato questo posto che vedete alle mie spalle allora questo è il laboratorio che nel quale io ho lavorato fino al 2017 era la mia tana è un posto bellissimo una casetta di legno in giardino quindi una delle cose più poetiche per un artigiano secondo me che ci possa essere dentro la stufetta legna ho una finestra che dà sul giardino dentro con me ci sono spesso i miei cani quindi è un posto magico è un posto nel quale veramente sono nate tantissime delle collezioni che insomma che adesso magari vedete in giro di pasa gioielli sono nate tantissime idee sono nate tante amicizie all'interno di questo posto qua e quindi è un posto che mi ha salvato mi ha salvato tante volte e mi ha salvato anche questa volta qua insieme al mio lavoro quindi sono riuscita a recuperare dal laboratorio che ovviamente dove ovviamente non potevo andare sono riuscita a recuperare un po di materiale l'ho portato su una minima parte ovviamente perché la maggior parte dell'attrezzatura in realtà è rimasta giù e l'ho portata qui ho ricominciato a lavorare in dei pezzi che erano lì che mi aspettavano da tanto ho ricominciato a prendere pinza seghetto ottone nelle mani insomma ho ricominciato a giocare e mi sono accorta che tra l'altro stavo facendo delle cose molto 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 interessanti cose fatte con un tempo strano con un tempo calmo con un tempo fermo con un tempo veramente incredibile perché non non capivo che cosa stava capitando cosa stava succedendo e quindi un po alla volta detto beh vabbè sto facendo cose sto facendo ancora cose belle o perlomeno cose belle per me cose che mi davano comunque una bella una bella sensazione una bella energia e quindi insomma questo mi ha un po aiutato a risalire la china di questa infinita cosa che stiamo vivendo e ad apprezzare questo tempo strano no ad apprezzare la le ore lente le ore lunghe le ore il calendario che non non passa mai e devo dire che questa cosa qua è stata fondamentale perché perché sì perché credo che per un artigiano il lavoro sia tutta la sua vita quindi passata questa seconda passate insomma impostata questa seconda fase della mia quarantena ho guardato anche fuori ho visto che comunque gli alberi stavano già mettendo fuori le foglie ho pensato di fare l'orto ho pensato a tante nuove collezioni ho pensato a tanti momenti che mi stavo che erano come del delle delle possibilità e quindi ho cominciato a pensare in maniera positiva pensando in maniera positiva automaticamente mi ha scattato questo piccolo gioco che secondo me fa parte del dell'animo umano che se tu pensi in maniera positiva poi automaticamente insomma le cose vanno bene sto sempre parlando dell'aspetto emotivo l'aspetto economico non lo voglio affrontare perché al momento non sappiamo assolutamente che cosa stiamo andando incontro non non sappiamo cosa succederà la prossima settimana questi mille decreti che stanno arrivando speriamo che ci aiutino a non soccombere quindi insomma dopo questa seconda fase di quarantena niente mi si è innescatto questa a questo atteggiamento positivo che adesso siamo qui vediamo che succede ci risolleveremo no in qualche modo la cosa che dobbiamo fare secondo me adesso è non smettere di fare quello che amiamo fare che è il nostro lavoro e la nostra quotidianità non smettere di farlo perché non ci meritiamo di andare avanti secondo me possiamo farcela in questo senso qua perché siamo persone buone non con il nostro lavoro creiamo del bello diamo delle belle sensazioni diamo delle regaliamo molte emozioni che noi stessi proviamo nel momento nel quale le facciamo nel quale stiamo creando qualcosa e questo è positivo e io spero che questo ci aiuti a veramente non soccombere spero realmente che quando andrete a comprare in un secondo momento quando riusciremo ad uscire di casa e andrete a comprare lo farete in modo consapevole perché dovete aiutarci ci dovete aiutare noi ci stiamo mettendo veramente l'anima per non soccombere stiamo cercando tutti i colleghi che conosco tutti i rivenditori che conosco stanno cercando di riadattarsi di reinventarsi per l'ennesima volta ma dovete aiutarci anche voi dovete fare in modo che noi continuiamo a fare il nostro lavoro e a fare del bello perché mi rendo conto che non è fondamentale quello che facciamo ma anche no cioè è anche fondamentale perché sono quelle piccole carezze che ci facciamo e che aiutano perché non siamo degli automi non siamo dei robot e quindi oltre a le necessità primarie che sono quelle ovviamente del mangiare dell'avere una casa di riuscire a sopravvivere abbiamo anche altre necessità quindi questo è l'appello l'appello insomma è il pensiero che mi sento di mandarvi e vi faccio anche una promessa una promessa di non smettere mai di creare delle cose che piacciono a me che piacciono a voi e che piacciono anche alle ragazze di terre rare perché poi continueranno a proporvele quindi secondo me dobbiamo farci tutti una promessa sì dobbiamo dire noi ci siamo noi stiamo continuando a fare ma anche voi dovete continuare a credere in noi a supportarci e quindi ecco credo di aver parlato anche troppo sono più di dieci minuti quindi secondo me a questo punto del video non ci sarà più nessuno che mi sta ascoltando e niente io vi auguro un buon proseguimento una buona vita e teniamo duro ciao